bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video ho perso la scommessa di nuovo ragazzi ho perso la scommessa avete fatto il botto di mi piace nel mio precedente video dove parlavo del ribasso dei mercati hold soprattutto l'analisi dello standard and puts 500 400 passo mi piace stanno salendo ancora ragazzi sono contentissimo e voglio ringraziarvi per questa cosa allora vi avevo promesso di mostrarvi tre investimenti che nel 2020 possono essere tenuti d'occhio e sono probabilmente potrebbero essere anticrisi in questo particolare momento e vi avevo promesso di fare questo video se fossimo arrivati a 400 mi piace li abbiamo sforati alla grandissima andiamoli a vedere in ordine partendo dal primo andiamo a vedere che cosa stanno facendo in questo momento di crisi la crisi finanziaria che sta continuando ragazzi perché come temevole standard e put 500 dopo il rimbalzo fake tra virgolette costruito solo e esclusivamente a grazie al taglio dei tassi interessi della federal reserve ha iniziato a ricontinuare diciamo a perdere quindi in realtà non è più crollato ragazzi però comunque è sempre un profondo rosso non ne parliamo poi del mercato italiano vediamo in settimana se riuscirò a fare anche un'analisi sul fusi mip italia per capire quello che sta succedendo ragazzi probabilmente la struttura recessiva sarà molto più forte di quello che si prevedeva a causa di questo di questo problema del virus ma oggi andiamo a guardare tre azioni tre stocks tre investimenti che in quest'anno 2020 potrebbero essere tenuti d'occhio proprio grazie tra virgolette a questi ribassi che ci sono stati in questi giorni allora la prima sconosciutissima ragazzi sconosciutissima azione apple azione apple ragazzi perché intanto apple ragazzi è lo stock più importante presente nel portafoglio anche dei più grandi investitori dal mondo come warren buffett che ne ha veramente tantissimi e soprattutto poi è un'azienda anti crisi perché al di là della vendita del hardware in generale presenta delle peculiarità che io ritengo estremamente importanti in un momento di crisi come questo prima peculiarità che presenta apple in questo caso è di essere posizionata su una serie di prodotti quindi non c'è un singolo prodotto non un singolo prodotto bensì ha anche una serie di servizi benché ancora non estremamente diffusi come ad esempio quello relativo alla tv perché in questo periodo di crisi insomma lo vedremo poi magari più in là con il video ragazzi vi anticipo già che i servizi connessi a quello che sono la multimedialità come netflix in particolar modo sono buoni perché ragazzi perché se siamo in quarantena netflix va bene no ok allora parte questo apple c'è anche questi servizi di tv c'è anche una serie di servizi che sono inderogabili come i cloud e quant'altro quindi si sta spostando si sta ampliando quindi dal singolo prodotto anche all'ambito servizi e poi ragazzi c'è un management allucinante perché sono delle persone di una cultura aziendale gigantesca come sempre accade però ragazzi il timing è fondamentale soprattutto per chi per chi non ha tantissimi capitali per chi non può stare magari investito su uno stocks per decenni senza magari vedere un profitto non tutti hanno questa fortuna e quindi è fondamentale andare a guardare il timing ragazzi allora quello che vediamo sono andamenti giornalieri intanto potete notare come la fluttuazione sia stata abnorme del titolo apple considerando anche il tasso di fluttuazione di questo strumento e questo vi fa anche capire la situazione di crisi insomma la situazione attuale dei mercati old che sono estremamente rischiosi in questa fase allora il trend di apple ragazzi è e rimane un trend rialzista quindi non vi fate forviare da questo tipo di situazione attuale vedete un po' questo trend tra l'altro delineato in una maniera estremamente bella dal 2009 poi insomma la salita è stata vertiginosa ragazzi quasi più di uno zero aggiunto al prezzo della della stocks ma in particolar modo è molto rilevante in questi casi vedere anche come il titolo riesce a riprendersi dalle fasi di ribasso quindi vedete quella del 2012 quella del 2015 2016 e poi l'ultima abbastanza pronunciata tra l'altro che era quella del 2018 2019 questa è un'altra vicina vicino troppo un po' vicina comunque è un'altra ragazzi vedremo se riuscirà allora prima cosa da guardare le medie al livello settimanale siamo all'interno di questa fase quindi c'è un po' di congestione e qui bisogna ragionare che da un punto di vista di timing in questo momento ragazzi non si dovrebbe acquistare il titolo perché il mercato ha iniziato una fase correttiva che potrebbe durare anche qualche mese è difficile indicare in questo momento un timing corretto relativamente a questi tipi di investimenti quello che dovete guardare vi consiglio di guardare sono i livelli di supporto più importanti diciamo compreso che il trend del mercato è e rimane rialzista i livelli di supporto che dovete andare a considerare sono intanto questa fase qui quindi i 230 ragazzi che è un livello molto importante perché il precedente massimo che era stato rotto quindi il mercato potrebbe raggiungerlo sì potrebbe fare anche una cosa del genere allora già questa fascia di prezzo sarebbe una buona fascia di acquisto ragazzi perché ama magari comprare i mercati che scendono io non amo fare questo voi lo sapete quindi attenderò un'inversione attenderò che tutta questa situazione sia un po' più snellita il segnale che mi ha dato l'SP500 in questo momento non mi fa stare tranquillo quindi non entro nelle stocks americane sono ancora in attesa però questa area questa qui ragazzi è una area di buy insieme anche a tutta questa fascia qui chiaramente parliamo di un investimento di lungo periodo ragazzi quindi su una stocks di lungo periodo parliamo almeno di 2-3 anni ragazzi però vi devo dire una cosa intanto lo do così finanziari però fate bene caso al fatto che i prezzi che stiamo guardando in questo caso a noi servono solo come timing perché molto probabilmente tutto quello che riguarda le previsioni relative aiutili alle vendite ai fatturati saranno modificati in negativo in maniera estremamente pesante ragazzi da tutte le aziende Apple sicuramente come vi ho detto prima ha dei cuscinetti relativi a questi servizi però insomma va considerato ragazzi il rallentamento la seconda azienda che ritengo molto bella insomma da guardare e che è legata anche a un settore che è quello appunto del lavoro a distanza molto valido in questi momenti di grande crisi è zoom ragazzi zoom è un'app di videocomunicazione di webinar e di lavoro o no online in questo momento magari di quarantena di questa fase di insomma del virus e quant'altro potrebbe essere potrebbe risultare essere uno di quelli stocks anti crisi ragazzi proprio perché intanto c'è una struttura di utili che cresce nel tempo quindi è una stocks che a me piace moltissimo insomma la tengo già sott'occhio già da un po' e poi perché anche un'altra cosa io sono sempre abituato a fare questo ragazzi prendo dei prodotti e guardo quello che uso zoom lo uso di continuo per una serie di conferenze anche con collaboratori che sono fuori e quindi non ci possiamo vedere fisicamente perciò ragazzi se la uso di continuo c'è anche un motivo probabilmente lo faranno anche tante altre persone in ogni caso vedete anche l'atteggiamento che ha avuto negli ultimi periodi a livello di fase ribassista non c'è stata una fase ribassista per quanto riguarda il momento del contagio insomma del virus di questa fase che abbiamo perché ragazzi perché appunto come vi ho spiegato questi strumenti in questo particolare momento sono utili anche per chi è a casa magari non può uscire per continuare a lavorare fare lezioni magari e quant'altro quindi sono delle alternative che magari potrebbero restare poi nella vita delle persone insomma a livello lavorativo quindi probabilmente aumenteranno il numero di abbonati per zoom io la tengo nel mio struttura del mio portafoglio in questo caso entrare su questo titolo e ragazzi qui sarebbe in teoria da posizionarsi e basta perché non è in una fase ribassista non lo è né nel medio né nel lungo né nel breve ragazzi il livello di ingresso più intelligente era intorno ai 110 dollari più o meno siamo lì vicino siamo a 112 ragazzi in questo momento forse un po' di più il ribasso sì più o meno 112 oggi perde ragazzi perde anche il 10% io magari farei una bella cosa magari tenderei a cercare una fase di consolidamento su time frame un po' più piccolini però ragazzi se credete in un progetto è un progetto anche molto giovane chiaramente iperspeculativo quindi diversificate sempre mi piace questo tipo di stocks tenete d'occhio passiamo all'ultima dolcissimo in fundo ragazzi è una stocks che tengo sotto occhio già da un sacco di tempo perché perché è legata ad un business che si sta sviluppando noi che siamo nel settore youtube noi che siamo nel settore diciamo della new economy parliamo così in quella digitale sappiamo a cosa serve ed è shopify ragazzi shopify è un'azienda che rende possibile l'apertura di negozi online di e-commerce questo è quello che fa shopify questo è un settore che nell'ambito attuale quindi nell'attuale modello di business soprattutto probabilmente anche per il futuro è un settore in forte crescita l'abbiamo già visto con il drop shipping o con Amazon FBA e l'abbiamo visto anche rispetto al fatto che probabilmente molti imprenditori molti rivenditori si stanno spostando sull'online per una serie di servizi per la facilità con cui si raggiunge un pubblico molto più vasto e anche per quello che riguarda per esempio l'influencer marketing perché l'utilizzo dell'influencer rende possibile anche magari la vendita attraverso canali e-commerce shopify ragazzi il leader in questo settore ma poi guardate un po' dall'anno del 2019 che ha fatto questo tipo di stocks questo strumento tra l'altro ragazzi volevo anche evidenziarvi una cosa incredibile questo sempre per chi continua a dire e ogni tanto veramente lo sento che l'analisi tecnica non serve a niente e mannaggia ragazzi mannaggia quanta confusione su queste cose allora se andiamo a guardare questo titolo ragazzi guardate un po' che figura di consolidamento e di continuazione del trend che aveva stampato qui nell'anno 2018 sei mesi di consolidamento dove che un breakout ragazzi che ha portato a numeri stellari qui parliamo veramente di rialzi stile bitcoin quindi una cosa incredibile ancora una volta analisi tecnica ci viene incontro nell'ambito del timing ragazzi non certamente nella valutazione di un'azienda quello dipende da altri tipi di fattori ma si tecnica sempre solo per il timing d'ingresso per chi non ha miliardi da investire e può stare dentro un mercato anche decenni allora qui ancora una volta vediamo la fase di consolidamento un po' come Apple ancora una volta anche qui questo titolo da tenere sott'occhio ha raggiunto il suo livello di pullback che era questo ragazzi questo qui intorno ai 420 vedete l'ha raggiunto nella fase di acuita insomma di ribasso relativamente a questa fase adesso però sembra dipinto come Apple proprio molto simile ad Apple ragazzi quindi prima fase di ribasso pesante una gamba rialzista quindi una B in sostanza e tecnicamente dovremmo vedere questa C ragazzi vediamo se il mercato configurerà anche questa C sono fiducioso anche su Shopify perché Shopify ragazzi è un'ottima azienda sta crescendo molto bene mi piace tantissimo quindi questa fase di ribasso potrebbe dare a questa stocks una fase di respiro da prezzi che erano diventati veramente stellari e quasi intradabili e potrebbe nei prossimi 2-3 anni anche questa fare bei numeri ragazzi soprattutto se l'ambito dell'apertura degli e-commerce online sarà rispettato come uno dei business del futuro bene vi ho detto quello che io penso vi ho dato le mie 3 stocks come promesso nel precedente video ragazzi scrivetemi cosa ne pensate nei commenti e soprattutto su quei pollicioni mi piace anche su questo video ragazzi iscrivetevi al canale weekend ci vediamo lunedì con l'analisi dei mercati delle criptovalute che stanno sostanzialmente cinciscando hanno perso un po' di volatilità stanno vedendo quello che succede ma reggono molto molto meglio rispetto ai mercati hold bene ragazzi buon weekend se riuscite a uscire per chi di voi riesce a uscire che situazione terribile ciao a tutti grazie a tutti